Devozione, preghiera, testimonianze di chi è stato guarito. La comunità di Trevico è in festa per l'arrivo della reliquia di Padre Pio. Tanti fedeli provenienti anche dai paesi limitrofi che hanno accolto, insieme a Don Michele Cogliani, all'amministrazione, alle autorità civili e militari, le spoglia del santo. La reliquia è stata portata in paese da Padre Paolo Cilenti, cappuccino confratello di Padre Pio, proveniente da San Giovanni Rotondo, poi la Santa Messa e la Veia di Preghiera. Un evento importante per la comunità che si prepara a vivere altri giorni di fede e di gioia. È un momento di festa per tutta la comunità, non solo per Trevico ma per tutta la baronia. Noi come amministratori, giovani amministratori, avevamo deciso di puntare su questo turismo religioso e su un turismo di fede. Trevico ha delle potenzialità perché ha questo santuario, il santuario della Madonna della Libera, che si trova proprio a metà tra San Giovanni Rotondo e Pietrelcine. Vorremmo che questa diventasse una tappa di questo turismo religioso che porta tantissimi fedeli sia a San Giovanni Rotondo che a Pietrelcine. Il programma è molto intenso, saranno tanti i devoti che arriveranno qui? Sì, confidiamo nell'arrivo di tantissimi devoti. Ovviamente ci sono queste testimonianze che veramente toccano tantissimo perché sono proprio queste le cose che fanno aumentare la fede e ovviamente anche la devozione verso questo uomo che è diventato santo da pochissimo tempo. L'evento è stato organizzato dalla parrocchia Santa Maria Assunta, dall'amministrazione comunale e dall'associazione Amici di Padre Pio. A Trevico arriveranno le scolaresche e gli ammalati che racconteranno le loro storie. La reliquia del santo tra qualche settimana sarà a Morcone. Tanta devozione nei confronti di questo santo, perché secondo lei? È Cristo del terzo millennio, perché è stato uno dei mocassini della povera gente, ha vissuto con tutti, in tutti e per tutti. Quindi non c'è stata una persona in questa nostra realtà terrena che non abbia avuto gioia di chiamarlo, di invogarlo, di incontrarlo. E allora ecco perché la sua umiltà è entrata in tutte le anime. Quindi è giusto che la gente lo sente suo come angelo custode, come Cristo, che diventa quasi una colonna sonora della propria vita terrena. Ci saranno anche delle testimonianze importanti di ammalati che sono stati guariti da Padre Pio? È vero, abbiamo una testimonianza di una ragazza che purtroppo, ahimè, cade dal quarto piano circa un annetto fa, non o meno, ma è andata a terra tutta sfragassata. Poi l'hanno portata in sala operatoria, l'hanno riammessa fino a fare 27 giorni di coma. E la sua testimonianza è questa che darà pure a quel programma dei fatti vostri mercoledì prossimo, proprio dicendo che il padre gli andava incontro durante il suo lungo cammino di questi 27 giorni. Non arriverai, dice, tu non oltrepasserai quella luce bianca. Quando poi si è svegliata dopo 27 giorni, che l'hanno portata in reparto, c'era una foto del padre con la mamma, che era lì, dice, lui mi ha detto questo, questo e questo. E i medici hanno giustamente detto, è stato solo un miracolo, perché come era combinato dal quarto piano, non poteva assolutamente risvegliarsi. Poi c'è la dottoressa Sorrentino, che noi vediamo sempre in tutte le varie realtà editoriali, nonché mediatiche, quindi con i suoi otto giorni di coma che ha avuto. Abbiamo padre Marciano Morra, il segretario emerito dei gruppi di preghiera che arriva da San Giovanni tantissimi anni, anche lui, al cospetto di padre Pio in collaborazione. Quindi un uomo molto grande scrittore, voglio dire, un grande analista, un grande conoscitore. Insomma, con padre Genardo di Flumari, a pian pianino hanno fatto proprio la storia e verrà a raccontare aneddoti e momenti. Poi abbiamo il vicario Furanio, gli amici del sindaco e altri, che verranno a testimoniare e a dire qualche... Poi c'è anche qualche canto, che è una preghiera cantata di padre Pio, quindi dovuta e raccontata da Gico, questo Gianni Coscia, detto Gico, che ha fatto un bellissimo canto dall'interno proprio dell'anima, da una sua storia personale, ha tirato fuori qualcosa di bello. Grazie.